numero 3 115 presentata dalla Lega Nord Piamoa Padania, punto ambiente, punto e basta, però in sede di conferenze di capogruppo si era detto di discutere contestualmente anche la delibera numero 4 133 che recita proposta dal consigliere Giovanni Lava del gruppo consigliare civico e movimento democratico per colleghi in merito al risarcimento danni causati da punto ambiente. La discussione è unica, poi si procederà a separate votazioni. Prego il consigliere Bardella a illustrare la mozione, dopodiché terminato il suo intervento daremo la parola al consigliere Lava perché possa illustrare la sua. Prego.